...truppe italiane nella gigantesca battaglia del Dnieper, una nostra colonna motorizzata all'inseguimento dei Rossi. Una visione del grande fiume ucraino ormai superato dai germanici e dagli alleati. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.com I nostri ricognitori nel cielo di Dnieper Petrovsk, la grande città industriale del bacino del Dnieper dopo il bombardamento effettuato dai bombardieri italiani. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.com Un ponte lanciato sul Dnieper, sulla cui riva sinistra i nostri si erano saldamente piazzati. Un grosso centro industriale distrutto dai bolshevichi in fuga. I bersaglieri rastrellano il terreno. Il nostro corso gratuito www.mesmerism.com